Andrea ha un sogno, diventare un aviatore. E per diventarlo deve impegnarsi tanto. Così noi della Kinder abbiamo pensato a Kinder Brioche, una lievitazione naturale di ore e ore, e una morbida crema al latte, per dargli quando è a scuola una merendina nutriente e soffice, come le nuvole. Chissà se Andrea diventerà un aviatore. Intanto lo accompagniamo nella crescita, che è la cosa che da sempre sappiamo fare meglio. Kinder Brioche, perché Kinder conosce i tuoi ragazzi da una vita. Grazie.